eccoci qua amici di pavia 1 tv allora mi dicono che bisogna parlare di messaggi positivi in questo momento non facile allora anche noi autogol come sapete siamo in quarantena no come lo sono tutti però io dico che in quarantena si possono ecco vivere anche dei momenti particolari vivere come stiamo cercando di fare anche noi la famiglia in modo diverso no o no cosa ne pensi senza sbuffare però sappiamo che la quarantena non è un momento facile ma scusate bisogna cercare di viverlo senza sbuffare amica mia so che non abbiamo un bel rapporto io e te che spesso ti lascio da parte che non ti uso mai però insomma qua bisogna fare i sacrifici tutti bisogna vivere la quarantena in maniera diversa quindi mi raccomando io e la mia amica la mia nuova amica compagna di quarantena vi diciamo sempre positivi ragazzi come fanno gli amici di pavia 1 tv dai e tutta cominciamo cominciamo Grazie.